si è fermato il muletto e non parte in alcun modo è morto praticamente ho scoperto che c'è il tubo questo qui che sto sfilando che ha perso la fascetta vedete che non c'è più non so dove è andata a finire questo si è allentato praticamente da qui mi prende aria si sfila si sfida subito non ci sta appena appena a mano di conseguenza mi ha preso aria preso aria adesso non parte più ho trovato anche questo tubo qui della pompetta che ne ha messo molto male era rotto anche qui secondo me prendeva aria con questo pezzo qui non è questo qui un altro estremo tagliato da qui adesso il resto è messo bene adesso ho sistemato i tubi ho messo le fassette dove mancavano i tubi sono a posto e adesso bisogna fare lo spurgo prima di provare a mettere in moto sul filtro del gasolio c'è questo raccordo qui che aveva da 16 va allentato un po così lento da qui bisogna far uscire l'aria l'aria che c'è nel circuito adesso dopo aver rentato l'accordo da qui bisogna cominciare a pompare della pompetta qui iniziano a pompare finché non vediamo che da qui inizia a spurgare si continua a pompare finché qui non esce proprio il gasolio che si vede che non escono più delle bolle d'aria e poi si chiude subito adesso l'ho chiuso perché l'ho pompato finché non è venuto fuori il gasolio e l'ho chiuso subito dopo averlo chiuso si continua a pompare ancora cinque sei volte poi e poi basta poi si prova a mettere in moto ecco finché è andato in moto tutto a posto e i motori a gasolio purtroppo hanno questo problema ne parlo dei motori datati e questo è il muletto se rimangono senza gasolio se per qualche altro motivo ci finisce dell'aria nel circuito non partono più quindi bisogna fare lo spurgo manualmente tirar fuori tutta l'aria da circuito altrimenti non partono in alcun modo a presto a presto a presto a presto